Un corale e lungo applauso ha salutato la canonizzazione dei veggenti di Fatima, Giacinta e Francesco Marto. A loro e alla cugina Lucia, la Vergine, apparve proprio il 13 maggio di cento anni fa, ricordando la luce di Dio che dimora in noi e mettendo in guardia sul rischio dell'inferno a cui conduce una vita, spesso proposta e imposta, senza Dio. La messa di canonizzazione, celebrata da Papa Francesco sul Sagrato del Santuario, in latino e portoghese, è stata una vera festa della fede, soprattutto per le migliaia di persone che hanno tinto con i colori del mondo il vasto piazzale. La Madre Celeste ci mostra Gesù e ci avvolge con il suo manto di gioia e speranza ogni volta che ai suoi piedi deponiamo gli affanni della vita. Tra le sue braccia non si perdono le suppliche dei malati e dei disabili, dei detenuti e dei disoccupati, dei poveri e degli abbandonati. Nell'Omelia il Pontefice ha sottolineato che ogni creatura dovrebbe essere speranza per gli altri perché chiedendo ed esigendo da ciascuno di noi l'adempimento dei doveri del proprio Stato, il cielo mette in moto qui una vera e propria mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia. A tutti Papa Bergoglio ha chiesto di ricordare sempre che abbiamo un ancora nel cielo, Gesù, che ha portato accanto al Signore l'umanità che aveva assunto nel grembo della Vergine Maria. Una leva che deve sostenere soprattutto i malati, prezioso tesoro della Chiesa, salutati alla fine della celebrazione. Non ritenetevi soltanto destinatari di solidarietà caritativa, detto il Pontefice, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa.